Full immersion tra musica, cultura e gastronomia tipica irlandese, percorsi culturali, mercato celtico medievale, dimostrazioni di artigianato storico, stage di danza, show cooking, degustazioni di birre e whisky irlandesi. Tutto questo a notaresco dall'11 al 13 settembre con l'Abruzzo Irish Festival. Quest'anno, come l'anno scorso, avremo sia musica che workshop. È caratterizzata perché avremo artisti di calibro internazionale, avremo l'headliner del sabato sera che viene dalla Germania e sono i Fidges Green, che sono una torne europea e fanno l'unica data in Italia. Proviamo Andy Irvine, che è il più grande interprete della musica irlandese al mondo, viene direttamente da Dublino. In più, altri vari maestri come Chrissy Lee, che viene anche lui a Dublino, Marco Fabri, uno dei più grandi interpreti in Italia. In più, avremo oltre 20 workshop, avremo oltre 18 birre tutte quante irlandesi, due punti catering irlandese e uno street food abruzzese sulle vie di notaresco. Essendo l'Abruzzo la regione che ci ospita, è giusto comunque far assaggiare ai vari ospiti che accoglieremo, anche pietanze abruzzesi, anche perché ci hanno contattato e vengono da Milano, Roma, Venezia, quindi inizia ad avere un'importanza nazionale il nostro festival.